Decine e decine di lettere per il sindaco Antonio De Caro e gli assessori comunali di Bari sono già state imbucate da genitori e figli nello stand del comune di Bari, numero 169 di fronte alla Fontana Monumentale, nell'area di cittadeibimbi.it. Centinaia di visitatori che hanno già visionato il cortometraggio La Nuova Classe Politica, prodotto dal portale, ora anche online, sul canale YouTube del portale. Il video ha coinvolto tutti gli assessori comunali della Giunta De Caro, che sono stati interrogati dai bimbi, attori per un giorno. L'iniziativa Bari Cresce con i Bambini continua tutti i giorni fino a domenica nello stand del comune per favorire l'incontro di scuole e famiglie con la Nuova Classe Politica Balese per una città a misura di bambino e famiglia. Previsti incontri fra gli assessori e alcune scuole. Domani alle 11 Carla Palone, Giuseppe Galasso e Paola Romano saranno intervistati dagli studenti della Scuola Media Carducci. Venerdì sarà la volta degli assessori Carla Tedesco e Pietro Petrozzelli, attesi da una delegazione di studenti della Scuola Elementare e Media dell'Istituto Comprensivo Santo Mauro.